Che partita ho visto! Daniele Lugani che ci fa fare tre punti belli importanti! Mamma mia! Se non sarebbe entrata avremmo pareggiato! Però l'importante Daniele Lugani ci fa fare i 3 a 2! Mamma mia! Vediamo le statistiche che è meglio! Tiri totali 22 a 7, tiri in porta 5 su 3, possesso palla 63 a 37! Allora, la partita inizia bene, al terzo minuto segna Dusam e va bene! Poi abbiamo iniziato la partita e abbiamo giocato malissimo! Infatti, al 14esimo minuto ci fanno gol! E la rimontano con Marco Brescianini! Chi è Marco Brescianini? Al 27esimo ci segna solo a noi Marco Brescianini! Allucinante! E poi Lugani al 90 più 5! Però abbiamo rischiato veramente di pareggiare col Frosinone! I gufi interisti non hanno gufato abbastanza! E abbiamo vinto per tre punti veramente, veramente importanti! Lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video! Fino alla fine, forza Juventus!